Mattio Bianchi, prego, tre minuti. Grazie, rimarrò sicuramente nei tempi. Come avete potuto vedere e sentire, la provincia di Varese quest'oggi gioca di squadra insieme a tanti interventi oltre al mio. Abbiamo dibattuto all'interno dei nostri direttivi provinciali, all'interno delle sezioni, di quello che sarà il futuro del nostro movimento. In un momento topico e di cambiamento in cui si andrà a delineare il futuro della Lega. Credo che, oltre agli aspetti di natura programmatica, si debba fare un sano ragionamento anche interno di regole e di strategie che dobbiamo assolutamente perseguire per andare a catalizzare verso di noi il consenso. Noi che siamo il partito dell'arco costituzionale del Parlamento italiano più vecchio, ma ancora oggi sempre più rivoluzionario. Credo che necessariamente ci sia bisogno di un rinnovo nella classe dirigente all'interno del movimento e all'interno delle istituzioni. Questo lo chiediamo a gran voce da parecchio tempo. Io credo e spero che questo sia il congresso che andrà a sancire questo tipo di approccio. E poi è inutile nasconderlo che la politica è anche gestione della cosa pubblica e gestione del potere. Abbiamo per tanti anni gestito il potere all'interno delle nostre città, all'interno delle nostre regioni, all'interno di alcune enti e istituzioni in cui abbiamo nominato i nostri rappresentanti. C'è necessità che questi rappresentanti rispondano al nostro movimento, c'è necessità che questi rappresentanti interloquiscano con le sezioni. E purtroppo questo non è stato così nel recente passato. Dal punto di vista delle scelte strategiche, io mi auguro che questo sia un congresso dove la dirigenza andrà a delineare veramente delle strategie della Lega che verrà. Ma le dovrà delineare con il benestare di tutti i delegati, di tutta la dirigenza intermedia. Perché se prima la Lega era Bossi perché l'ha fondata e poi Maroni l'ha salvata, ora la Lega siamo noi e necessariamente abbiamo bisogno di condividere tutta una serie di scelte. Io non mi vergogno di dirlo che sul tema dell'euro qualche perplessità ce l'ho sulla posizione di Matteo. Ma ce l'ho non perché sia favorevole a questo euro o a questa Europa, anzi tutt'altro. Io sono decisamente contrario, però sono parimenti contrario al ritorno della liretta italica. Io verso l'Italia, verso il sud e verso Roma non voglio assolutamente guardare. Devi chiudere. E chiudo qui, c'è scritto futuro e indipendenza. Credo che futuro e indipendenza e indipendenza e disobbedienza debba essere la parola d'ordine del prossimo segretario federale. Ma credo che debba essere anche la parola d'ordine dei nostri governatori dal quale ci aspettiamo, soprattutto in virtù della prossima campagna elettorale, delle azioni che vadano in quella direzione. Grazie.